Esce sconfitta dal parchè di Gallarate la MBC Servizi Arezzo che nonostante un buon inizio subisce la rimonta dei padroni di casa nella seconda parte di gara. Dopo un avvio equilibrato la SBA prende qualche lunghezza di vantaggio e ragazzi di coach evangelisti riescono a chiudere il primo quarto avanti 21 a 15. Nel secondo parziale l'inerzia positiva della MBC Servizi prosegue con Arezzo che tocca il più 11 dopo una tripla di zocca. Dopo qualche errore nel secondo quarto il quintetto a Maranto va negli spogliatoi sul 43 a 36. Ad inizio terzo quarto Gallarate cambia atteggiamento e si riporta rapidamente in linea di galleggiamento. Arezzo commette tanti errori tra palle perse e conclusioni affrettate che ridanno fiducia alla squadra di casa. Già sulla terza sirena Gallarate è avanti 63 a 59. Cavalcando questo momento positivo inizia l'ultimo quarto dove i Lombardi ricacciano indietro i tentativi di rimonta dell'AMBC Servizi. Si entra negli ultimi due minuti di gioco con Gallarate in vantaggio 74 a 71. Le due giocate vincenti per i padroni di casa sono un gioco da tre punti di Molteni e soprattutto una tripla di Fioravanti che realizza il canestro del K.O. sulla serena dei 24 secondi. La SBA non segna più e così Antonelli Lunetta con un tiro libero fisse il punteggio finale sull'81 a 71 decretando la vittoria dei padroni di casa. Dopo questa sconfitta l'AMBC Servizi tornerà in campo domenica prossima al Palace Portestra contro Campus Varese per l'ultima giornata di questa stagione. Un campionato che ha regalato tante soddisfazioni alla società e alla squadra Maranto capace al suo primo anno in B di conquistare con larghissimo anticipo la permanenza in categoria.